Io sono Monica Monici, sono laureata in scienze biologiche, ho sempre fatto ricerca in vari istituti universitari del CNR, del Ministero degli Esteri ed ho collaborato con varie industrie. Il mio ruolo attuale è quello di responsabile del laboratorio ASA Campus che è la divisione ricerca di ASA. Il laboratorio ASA Campus è un laboratorio congiunto che nasce da un accordo fra il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica dell'Università di Firenze e la RITASA. È uno dei primi in Italia e siamo anche fieri di aprire questa nuova strada di collaborazione fra università e industria per la ricerca. Il mio compito insieme ai colleghi dell'università è quello di organizzare i programmi di ricerca di ASA Campus, di fare nuovi progetti di ricerca e di seguire le numerose collaborazioni nazionali e internazionali che abbiamo. Il mio concetto di benessere è sentirmi soddisfatta di me stessa, il che non succede quasi mai, ma la ricerca soprattutto per me stessa, perché la ricerca è una passione, una passione grande che ho sempre avuto. Naturalmente il compito della ricerca è quello di fare qualcosa per gli altri attraverso le nuove conoscenze e questo è un impegno quotidiano.